Che succede, Mastino? Fammi un favore, il mio nome è Wayne. Ma questa volta... Oggi sono gli sparati, ti prego, non... Vuoi i soldi? Eh? Ti vanno delle caramelle? Perché non gli gratti pure la schiena? Tazzo! Ti prego. Sei tu, Wayne? Il mio capo mi ha detto di trovarti per invitarti in questo posto stasera. Chi è il tuo capo? Non preoccuparti, non è una cosa brutta, è una cosa bella. E ora da Melrose Park la comicità di Frank Milo! Frank! Ehi! Eccolo lì! Tu mi hai salvato la vita, diventa amico mio. Se lo fai, io diventerò il realizzatore dei tuoi sogni. Ciao, io mi chiamo Gloria. Sempre contento del mio regalo? Senti, tu gli hai salvato la vita, lui vuole che io sia tua amica per una settimana. Allora che fai per lui? Ci vai a letto? Non credo che vada mai a letto con qualcuno. Frank vuole assicurarsi che tu sia contento. Per i prossimi cinque giorni facciamo finta di essere una coppia normale come tutti. Sei felice? Tanto mi paga lo stesso. Odio la gente che si approfitta dei miei favori. Frank, non sono affari tuoi. Pensavo fossimo amici. Non so di cosa stia parlando. Voglio che tu sia fuori di lì entro lunedì. Con lui non ci torni. Hai tre giorni. Allora scende? Io l'amo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo! Io l'amo. Io la possetto! Dovrei fare degli addominali. In questo momento. No, voglio dire in generale. Con Frank non puoi discutere, non puoi combattere, non puoi nasconderti. Ti piace il baseball? Sistemiamo questa cosa e poi ti porto a vedere i socks. Io non ti sto chiedendo di salvarmi, Wayne. Ehi, niente fegato, niente gloria.